Buongiorno oggi siamo qui con Martina che è la responsabile showroom del progetto Villa Cenzina. Villa Cenzina è un edificio storico risalente al 1800 situato a circa 100 metri dal mare di Riccione. Attualmente sede di un progetto innovativo e molto importante, un progetto di ristrutturazione che mira a realizzare un complesso di vacanze lusso che prevede tra diverse strutture, due un po più vicine all'estetico originale e un'altra invece più tesa verso lo stile minimal. Quali sono le caratteristiche e i focus del vostro progetto appunto? Innanzitutto Villa Cenzina è stata pensata e realizzata per garantire miglior standard abitativi sotto svariati punti di vista. Innanzitutto in una dimensione concettuale che ha percorso le vie della bellezza, del comfort, della comodità, della riservatezza. Mentre in una dimensione strutturale la villa è stata progettata con particolare attenzione all'utilizzo di materiali di pregio, all'impiantistica high-tech, ai giardini progettati e studiati da un agronomo paesaggista, alle piscine con nuoto controcorrente, ai solarium, ai garage sotterranei con rampa elevabile e colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Per cui i pilastri fondamentali di Villa Cenzina sono sicuramente bellezza, comfort e riservatezza. Centrale nel vostro progetto risulta l'aspetto green che si declina in una costante attenzione dalla messa a punto di un piano di efficientamento energetico. Ci puoi parlare più dettagliatamente di questo aspetto così importante sia per il vostro progetto ma a livello globale? Certo, effettivamente il progetto è stato interamente studiato nella conversione delle nuove tecnologie in una prospettiva non solo mirata al massimo comfort ma anche al risparmio energetico. Infatti noi ci siamo serviti del servizio Lab Energy Service Company che ha portato a Villa Cenzina il top dell'efficienza energetica attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di servizi e tecnologie quali ad esempio la cogenerazione, l'isolamento termico, il raffreddamento pavimento e vari impianti di domotica. Tutte queste risorse a differenza di quelle più diffuse sul mercato hanno portato un rilevante risparmio energetico pari al 52 mila euro annui e al 35% dei costi totali dell'energia. Il prossimo 22 luglio sarete sponsor di un grande evento infatti presso il Riviera Golf si svolgerà la giornata dedicata alle bimbe e gli occhi belli seguite dalla AIRET, l'associazione appunto che si occupa delle bimbe affette dalla sindrome di Rett e oltre tutto anche il 29 luglio ci sarà un evento sponsorizzato proprio by Villa Cenzina. Come è nata questa decisione di diventare sponsor e comunque partner di eventi golfistici? Allora innanzitutto io penso che Villa Cenzina diventerà grande anche grazie alla sinergia di tutti quei vari soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di essa quali architetti, ingegneri, designer, tecnici dell'efficienza energetica. Dall'altra parte penso anche che la Villa del Futuro debba andare a collaborare con tutte quelle strutture di lusso già preesistenti sul territorio per cercare sinergia, contatti, progetti e prospettive in un territorio che ha voglia di crescere sotto sicuramente due canoni bellezza e confort. Bene allora noi vi auguriamo un in bocca al lupo grossissimo per il nostro progetto e vi aspettiamo a Riviera Golf. Va bene.